Ciao, come ti chiami? No, sono un giocattista, che ti vuole? Quanti anni hai? Che lavoro fai? Veterinario Che segno sei? Tanto Qual è il tuo sogno? Trasferirsi in Australia Trasferirsi in Australia? Bravo, l'argentino non ti piace? No, peccato, andiamo in Australia Ok, a cavallo sai andare? Sia giusta Stop!